La mia cognata che si sta preparando per andare al concerto di ultimo è indecisa fra questa cannottierina sono arrivate tutte le cose nuove e sono tornati i body tra il top e il body con la scritta argentata quindi questa è l'opzione numero 1 opzione numero 2 col top cabello ovviamente trovate anche questi shorts anche l'infratito la schiava abbiamo caricato, ci sono bianca, argento e nere pirouetta delicata esatto turnica opzione numero 3 col body Michela che sta giocando con i glitter queste sono tutte le cose nuove, cioè guardate il body celeste innamorata io, come brilla questo rosa barbie poi nero lilla rosa con la scritta glitterata nera poi guardate pure i top quanti colori io sempre innamorata del celeste alla follia troppo bello grigio blu elettrico ciclamino rosa barbie rosa barbie nero grigio con la scritta nera e lilla ecco la canotta che ha scelto Michela celeste 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 nera e bianca che è un po' di palà che se